Ciao Beppe, io sono il salutatore, ti chiedo un saluto a tutti i tuoi fan e i tifosi della Lazio e della Nazionale. Un saluto a tutti, tifosi, nazionale, Lazio, Laziali ovviamente, segna sempre lui, ciao. Grande, io ti ho portato, aspetta la sorpresa, la manina del salutatore non poteva mancare, e ti chiedo i saluti per il direttore di L Radio, Ezio Luzzi. Ciao Ezio, grande, ciao.